Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social pagina Facebook Start & Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Pian Castagnaio, percorso difficile da raggiungere dalla Romagna. Per esperienza ha chiedito ai tifosi del Rimini che dovettero due anni fa sopperire a questa trasferta dove la pianese, principale rappresentante di un piccolo ceto della Toscana, vince a sorpresa il girone in dirice ledì. La partita metteva di fronte un Cesena che ritradizione ne ha da vendere e che ottenuto come del resto la stessa pianese e la promozione all'ultimo turno vola sulle ali dell'entusiasmo con il ritorno nel calcio che conta ma prima c'è da sfruttare una pull scudetto. Ma veniamo alla gara. Il primo tentativo arriva per opera di Giacomo Benedetti con relativa parata di Sarini. Dall'angolo ancora Benedetti protagonista con il colpo di testa che termina a lato. Il Cesena si vede con questo stacco di testa di Cioffi con relativa risposta in corner del portiere di casa. Da punizione Benedetti innesca Bernardini che manca l'appuntamento per la deviazione vincente. Verra spina costante si dimostra Lorenzo Benedetti che arriva alla battuta ma la sua conclusione risulta debole e centrale. Ma il gol arriva due minuti dalla fine. Del primo tempo Valeri mette al centro, Cappellini risponde presente. L'ex Sant'Arcangelo buca la retroguarda di casa facendo esplodere questa volta il tifo bianconero di Romagna. Prima della chiusura del tempo Simeoni dalla distanza chiama la presa a Sarini. Nella ripresa le emozioni l'attita nuova quando toglie e esplode il destro. Tra i palli Frobeschi risponde da campione. La risposta della pianese perviene con questo missile del capitano Gagliardi. Pallone sul fondo. La sortita di Sakai poco dopo non porta agli effetti sperati. La produzione con tanto di confezionamento d'opera di Sakai porta a questa nuova incursione con un innocuo colpo di testa del solito Benedetti. Mai ce ne hanno ancora i più rischi. Col minimo sforzo porta a casa i primi tre punti della Pulse. Scudetto.